Presidente Massimo Bitonci, lei ha detto che la cabina di regia del governo è un fallimento, perché? Fa un po' sorridere, abbiamo un'imminente crisi del governo, domani si voterà sulla sfiducia ad Alfano, c'è il Partito Democratico in fibrillazione, l'indicazione dei Renziani di votare contro e quindi a favore della sfiducia di Alfano, nonostante ci sia un'indicazione del partito che sia contraria, insomma una maggioranza che si sta spaccando. Quello che fa sorridere è che queste cose che succedono all'interno del Partito Democratico non sono certamente legate al programma o quello che non sta facendo il governo, perché non sta facendo assolutamente nulla, sono legate a questioni interne, legate alla segreteria del Partito Democratico e quindi questa lotta interna che c'è tra i Renziani, i giovani turchi, la componente di Letta, insomma è incredibile che un governo di così ampia maggioranza, che si fa chiamare un governo di solidarietà nazionale, dopo rischi ogni settimana di cadere per qualsiasi cosa. Quindi queste cabine di regia, ho detto prima, sono ridicole perché sembrano quasi degli appuntamenti settimanali per mangiarsi un tramezzino o un picnic al parco.